Didattica in presenza, didattica a distanza, ormai è diventata una storia vecchia. Qualcuno si è lamentato che ci sono classi piene e classi vuote, però la legge dice che così è. Noi ci siamo attenuti fedelmente al dettato normativo, che addirittura consente la presenza degli studenti fino al 75%. Invece, seguendo le linee sia dell'ufficio scolastico regionale sia dell'ambito territoriale di Teramo, abbiamo preferito mantenere la percentuale del 50%. Chiaramente è tutto affidato all'autonomia organizzativa dei dirigenti scolastici e quindi al DPR 275 del 99. La domanda è come concepire questo 50%, cioè il 50% all'interno delle classi o il 50% per quanto riguarda l'intero numero degli studenti. Noi abbiamo preferito, proprio per le caratteristiche stesse del curriculum liceale, immaginare il 50% sull'intera scolaresca per non pregiudicare ulteriormente gli apprendimenti. Perché se è vero che la didattica a distanza è una risorsa preziosa, con delle potenzialità davvero notevoli, più volte ci siamo detti che la didattica in presenza, vuoi perché lavora sul non verbale, sulla relazione, sull'empatia, sortisce inevitabilmente effetti diversi. Questa poi compagine l'abbiamo anche immaginata da ottobre, novembre, quindi francamente non capisco come mai adesso si possa considerare questa scelta non felice. C'è anche poi una motivazione di ordine tecnico, perché in 50 classi, perché questo è il numero sostanzialmente delle classi che caratterizzano lo scientifico, si possa attuare un discorso del genere, è necessaria una strumentazione tecnologica che ad oggi il liceo non ha, pur avendo laboratori piuttosto performanti e pur avendo intrapreso un percorso ambizioso riguardo alla dotazione tecnologica. Ci siamo anche sentiti con altri dirigenti, quindi mi risulta che soltanto una scuola ha optato per questa sistemazione, però tutti gli altri licei seguono la nostra linea. Grazie. Grazie.